Com'è vivere fuori dall'eurozona? Questo è il nostro viaggio in Gran Bretagna, il maggiore paese europeo che non ha aderito alla moneta unica. In Vita Fuori dall'Euro raccontiamo tutti gli aspetti che regolano la vita di questa nazione. Il tema di questa puntata è la politica, la politica naturalmente, fuori dall'euro. Reteconomy, la nuova visione dell'economia.